La bellezza salverà il mondo. Con questa citazione di Dostoievski gli studenti del liceo a Polloni spiegano il loro progetto scuola lavoro per abbellire in collaborazione con l'amministrazione comunale punti strategici e di forte impatto visivo della città con la street art dei graffiti. Non certo una novità da questo punto di vista, la novità sta nel fatto che sono degli alunni di una scuola della città che si propongono come strumento di creatività e di miglioria del decoro urbano a favore di tutti i cittadini, turisti e passanti e che il comune stesso proponga nuovi spazi da mettere a disposizione della loro creatività per scoraggiare, come affermato dallo stesso sindaco, chi invece vede in un muro bianco un foglio da imbrattare. L'esempio portato è il sottopasso che da Viale Cairoli porta a Lido, puntualmente imbrattato di notte e ogni volta che veniva imbiancato di giorno, come una sorta di attuale tela di Penelope, ma anche i capannoni dei carri di Carnevale a sud e l'ex area chief a nord. Assieme all'istituto a Polloni abbiamo deciso di ripensare alcuni luoghi della città, abbiamo iniziato dal sottopasso della stazione che era un lungo muro di cemento grigio, quindi aveva bisogno della creatività dei ragazzi che sicuramente hanno potuto ripensare al luogo della città e soprattutto quello su cui noi come amministrazione puntiamo è di abituare la città a questi gesti creativi per evitare anche il graffitismo e il vandalismo sui muri. Credo che queste occasioni siano delle occasioni molto importanti e spero che appunto si continui su questa strada. C'era stato proposto anche, non so appunto se si concretizzerà, ad esempio anche la realizzazione e l'abbellimento della passeggiata dell'Esippo che è un'altra bella opportunità e vorrei coinvolgere non solo il liceo artistico ma anche gli altri istituti del Polo 3 che appunto hanno questa capacità di esprimere la loro creatività. La differenza sta anche nel fatto che questi studenti hanno effettuato, prima di mettere mano ai pennelli e ai colori acrilici, uno studio ed una ricerca artistica ben precisa su cosa e come realizzare l'impianto artistico nel sottopasso della stazione che sarà visibile nella sua completa realizzazione a partire da lunedì prossimo. Il segno è proprio l'elemento chiave, la chiave di volta del nostro progetto infatti come sosteneva Sol Steinberg, la linea è quanto di più primitivo abbiamo perché un bambino che inizia a disegnare fin da piccolo, la prima cosa che fa è un segno, uno scarabocchio e Steinberg si definiva un infante, un bambino che comunque sia ha continuato questa istintività, comunque sia ha dato un verso e una direzione a questa istintività che hanno tutti, abbiamo tutti indipendentemente dalla razza.